Ancora un incidente mortale lungo la regionale 71, siamo all'altezza di Marcena, comune di Arezzo. Questo è uno dei tratti più nuovi appunto di questa arteria che purtroppo è sempre più spesso teatro di tragedie della strada. Aveva 41 anni, Linda Cecconi era una mamma e una moglie. Lascia un marito, infermiere del 118 e un figlio di 11 anni. Stava percorrendo la regionale per andare da Capolona ad Arezzo per raggiungere il proprio posto di lavoro, ma nell'ufficio dello sportello unico del comune di Arezzo, Linda non è mai arrivata. Il tremendo impatto alle 7.40, il tir viaggiava in direzione del Casentino. Prima l'impatto con un'auto, poi il conducente ha perso il controllo del mezzo e ha travolto in pieno l'auto della donna. Il mezzo pesante si è ribaltato ed è rimasta coinvolta una terza macchina. Per la 41enne non c'è stato scampo, è morta sul colpo. Feriti gli altri conducenti, il camionista, un 67enne di Spoleto, un uomo di 41 anni e una donna di 59 portati in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Il tratto dove è avvenuto l'incidente è uno dei più nuovi della regionale. A pochi metri di distanza da dove è morta Linda, un mazzo di fiori, un'altra tragedia che ha distrutto altre vite. Il terribile incidente è avvenuto a poche ore da un altro mortale avvenuto nelle strade aretine nel quale è scomparsa un'altra giovane madre, la 35enne Ilaria Cresci. La donna è stata investita da un camper mentre stava attraversando questo tratto di via Romana ieri sera. Dopo l'incidente era stata trasportata all'ospedale di Careggi ma nella notte è deceduta. Lascia il marito e un bimbo di appena 5 anni.